continuiamo in questo video la carillata sugli esercizi guardiamo gli esercizi sulle somme di derivate qui ho messo una serie di esercizi se volete potete fermare il video provare a farli da soli e in ogni caso continuando a vedere il video vedrete le soluzioni o il mio modo di risolverli in basso vi ho messo anche la formula per la somma delle derivate se ho la somma di due funzioni e voglio fare la derivata questa sarà uguale alla derivata della prima funzione più la derivata della seconda ovviamente se ho più funzioni questo meccanismo si ripete quindi con tre funzioni avrò la somma di tre funzioni avrò la derivata della prima più la derivata della seconda più la derivata della terza ogni derivata rimane a sé stante divisa da un più questo più ovviamente può essere anche o meno se ho la differenza di funzioni il ragionamento non cambia iniziamo a risolvere i nostri esercizi sono esercizi semplici le formule le potete trovare nel video di teoria dove ci sono tutte le formule e anche i metodi per risolverle qua in alto vi ho messo le derivate principali riportando quelle che vengono utilizzate nell'esercizio che si sta svolgendo allora qui abbiamo tre funzioni 4x più la seconda funzione che è 2 logaritmo naturale di x la terza funzione meno 3 la derivata di 4x è 4 perché la derivata dell'incognito è 1 quindi 4 per 1 avremo 4 la derivata di 2 per il logaritmo naturale di x sarà 2 per la derivata del logaritmo naturale che qua sopra ho messo che è 1 fratto x quindi avremo più 2 fratto x la derivata di meno 3 è 0 quindi a questo punto la mettiamo quindi abbiamo visto che date tre funzioni avrò la somma delle loro derivate un altro esempio è y uguale a 2 elevato alla x più logaritmo in base 3 di x anche qui possiamo vedere che abbiamo due funzioni 2 elevato alla x è la prima funzione logaritmo in base 3 di x è la seconda funzione se vogliamo fare la derivata di 2 elevato alla x è come dire la derivata di a elevato alla x dove a è la base x l'esponente questa sarà uguale a a elevato alla x per il logaritmo naturale della base ossia 2 quindi nel nostro caso 2 alla x logaritmo naturale di 2 la seconda funzione invece è il logaritmo in base 3 di x anche qui ho messo la formula generica che è la derivata del logaritmo in base a di x che è uguale a 1 fratto x per il logaritmo in base a di e e vi ricordo che il numero di ne è vero nel nostro caso avremo quindi 1 fratto x per logaritmo in base 3 di e altro esempio è y uguale a 5 per e alla x più il seno di x la derivata di e alla x è sempre e alla x quindi avremo che la prima derivata è 5 per e alla x qui in alto ho messo la derivata di e alla x poi faccio la derivata della seconda funzione quindi più la derivata del seno di x che è il coseno di x quindi abbiamo più coseno di x qui basta fare le derivate dei singoli pezzettini qui abbiamo una radice allora la derivata di una radice noi la radice la possiamo vedere anche come un esponenziale ossia come x elevato alla un mezzo che magari risulta anche più semplice quindi la nostra costante rimane costante e qui faremo la derivata di x elevato a un mezzo che è uguale a 1 fratto 2 che moltiplica radice di x possiamo semplificare il 2 con il 2 e avremo che rimane 1 fratto radice di x la seconda funzione è un mezzo per x alla seconda in questo caso abbiamo anche qui che la derivata di 2 di x la seconda è 2x quindi avremo 2x fratto 2 anche qui il 2 lo possiamo semplificare sopra e sotto e rimane più x l'ultima è la derivata del logaritmo naturale di x il logaritmo naturale di x ha come derivata 1 fratto x e quindi abbiamo concluso i primi quattro esercizi parliamo gli altri 4 y uguale a x elevato alla quinta più 5 elevato alla x più logaritmo in base 5 di x allora la derivata di x alla quinta è 5 x alla quarta perché la derivata di x elevato alla n è uguale a n per x alla n meno 1 poi abbiamo 5 x allora 5 x la derivata di 5 elevato alla x come dire la derivata di a elevato alla x abbiamo già vista che è uguale a elevato alla x per logaritmo naturale della base quindi 5 elevato alla x per il logaritmo naturale di 5 più il logaritmo in base 5 di x anche questo l'abbiamo già visto è la derivata del logaritmo in base a di x che è uguale a 1 fratto x che è uguale a 1 fratto x per il logaritmo in base a di e che è il numero di nepero nel nostro caso è più 1 fratto x per il logaritmo in base 5 di e altra semplice derivata è y uguale a x alla sesta sesti meno x alla quinta quinti meno 1 qui la derivata allora consideriamo la prima funzione x alla sesta sesti sarà 6x alla quinta quindi avremo 6x alla quinta sesti il 6 si può semplificare col 6 meno perché qui c'è il meno semplicemente comunque è sempre la derivata diciamo che è una somma algebrica quindi meno più quindi lo possiamo riportare x alla quinta la derivata di x alla quinta sarà 5x alla quarta fratto 5 quindi semplifichiamo il 5 col 5 rimane x alla quarta la derivata di 1 è una costante quindi 0 di uguale x alla quinta meno x alla quarta semplicemente qui abbiamo invece una funzione che ho riscritto diciamo perché avevamo la radice della radice di x meno logaritmo naturale di 1 fatto x alla seconda allora scrivere la radice della radice diventa molto complicato fare la derivata ho preferito quindi fare un paio di calcoli e scrivere la radice di x è come dire x elevato a un mezzo ma qua ne abbiamo due di radice quindi abbiamo x elevato a un mezzo tutto elevato a un mezzo quindi avremo un mezzo per un mezzo che fa un quarto quindi la radice di x fratto la radice di x diventa x elevato a un quarto e invece logaritmo di 1 fratto x l'ho lasciato così quindi dovremo fare ora la derivata di un esponenziale è quella di un logaritmo qui le derivate dell'esponenziale portiamo un quarto davanti quindi un quarto per x un quarto meno uno allora un quarto meno uno facciamo il denominatore comune 4 quindi 1 meno 4 fa meno 3 quindi x elevato alla meno tre quarti meno la derivata del logaritmo di 1 fratto x alla seconda questa è una composta noi le abbiamo ancora viste le composte le composte si fa si parte dal derivata esterna quindi la derivata del logaritmo se noi qua avevamo x era 1 fratto x in realtà quell'x lì rappresenta un argomento perché qui abbiamo un logaritmo di una f di x quindi sarebbe 1 fratto f di x 1 fratto f di x è 1 fratto 1 fratto x quadro questa la potevamo scrivere semplicemente anche capovolta con x quadro e basta perché 1 fratto qualcosa vuol dire ribaltare la funzione e quindi x quadro va in alto per che cosa cosa c'è qua tra parentesi qua tra parentesi c'è la derivata della mia funzione allora x alla seconda 1 fratto x alla seconda lo posso scrivere anche come x elevato alla meno 2 quindi la sua derivata sarà meno 2 per x meno 2 meno 1 che fa meno 3 qui ho fatto un paio di calcoli giusto per semplificare e ho riscritto la funzione mettendo la mia derivata ah qui sto ancora riportandovi le funzioni la derivata del logaritmo è uguale a 1 fratto x la derivata di e alla x è uguale a e alla x quindi vi ho riscritto la funzione mettendo 1 fratto 4 che moltiplica la radice quarta di x alla terza perché x meno 3 quarti è 1 fratto la radice quarta di x alla terza 3 diventa l'esponente della x 4 è l'esponente diciamo della nostra radice e il meno vuol dire che siamo al denominatore meno come vi dicevo x alla seconda va al denominatore qui abbiamo un 2 e poi abbiamo x alla terza quindi x alla terza che si semplifica con x alla seconda e rimane soltanto un x al denominatore quindi diventa 1 fratto 4 per radice quarta di x alla terza meno 2 per x alla seconda per x l'ultima è y uguale a x alla seconda per il logaritmo naturale di 4 meno x per radice di x più 4 sen x allora logaritmo naturale di 4 state attenti perché in realtà è un numero e quindi dobbiamo trattarlo come una costante facciamo la derivata di 2 di x alla seconda che è 2x 2x per il logaritmo naturale di 4 ora x per radice di x è come dire x elevato alla 1 per x elevato a un mezzo facendo quindi applicando le proprietà delle potenze che potete vedere nei miei video avremo che si fa 1 più un mezzo che diventa tre mezzi quindi come dire x elevato alla tre mezzi 3 mezzi vado avanti e qui avremo x elevato alla tre mezzi meno 1 che diventa x elevato a un mezzo più 4 che moltiplica la derivata del seno di x che è coseno di x in alto vi riporto sempre le formule la derivata della mia radice se volevamo farlo come radice era un mezzo per x elevato a meno un mezzo la derivata del seno che è uguale al coseno se il video è piaciuto mettete un like se avete delle domande e dei dubbi potete scrivermi a dispensadimatematica chiocciolo gmail.com oppure anche degli esercizi da mandarmi da risolvere potete scriverlo anche nei commenti qui sotto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti